il leader del carroccio che domani vedrà il premier torna sulla sua proposta lanciata ai partiti della coalizione al governo ma si rivolge anche a giorgia meloni che è un'amica e un'alleata con cui vincere le elezioni nel 2023 la leader di fratelli ditalia risponde non è un'operazione contro di me non parlo di fusioni o di annessioni ma di una collaborazione già da domani matteo salvini chiarisce i punti fondamentali della sua proposta di creare una federazione dei partiti del centrodestra di governo che ha scatenato reazioni e anche malumori nella coalizione soprattutto all'interno di forza italia la proposta che ho fatto agli altri leader di centrodestra è semplice continuiamo a rimanere divisi o vale la pena mettere insieme in italia in europa idee proposte di legge non vale la pena avere una sola posizione comune su fisco burocrazia giustizia sarebbe utile anche a draghi e al paese avere una voce sola mantenendo ciascuno la sua identità uniti si vince ha spiegato intervenendo a mezz'ora in più su rai 3 annunciando poi che nell'incontro del centrodestra previsto in settimana ci troveremo per chiudere la partita dei candidati sindaci ma e parleremo anche della mia proposta poi faremo una sintesi io non impongo nulla la mia è una proposta di una forza unica che può essere la prima in parlamento in italia nelle regioni in europa intanto domani il leader leghista vedrà il premier mario draghi per ribadire il massimo sostegno alle riforme nel nome della concretezza della semplificazione della velocità sarà anche l'occasione si legge in una nota per illustrare al premier la proposta di federazione dei gruppi di centrodestra che sostengono il governo un progetto costruttivo e di unità utile per rafforzare l'azione dell'esecutivo in italia in europa oggi penso a una federazione di forze che sostengono il governo draghi ha detto ancora il leader leghista che però ha lasciato la porta aperta a giorgia meloni che è una amica e l'alleanza rimane sicuramente l'obiettivo per arrivare tutti assieme a vincere le elezioni nel 2023 3 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12